salve a tutti oggi vi faccio vedere come si seminano si fanno germogliare del pratino per acquario classico grosso stigma in questo caso che non vediamo molto i pratini che vediamo questi semi vendere in giro sul web vi farò vedere principalmente differenze di semi come riconoscete quelli buoni da quelli non buoni da dove comprare sapere riconoscere i semi allora ora quello che faccio può essere fatto in acquario io muovo per praticità vi faccio vedere come faccio io le piante in vitro cioè il pratino in vitro il vitro cioè vuol dire in vaschetta prendiamo una vaschetta classica vaschetta allora iniziamo di cosa abbiamo bisogno del fondo io in questo caso uso allofano ma può essere usato qualsiasi tipo di fondo fine anche il substrato fertilizzato c'è anche chi fa con la gelatina senza usare nessun fondo si può usare qualsiasi cosa e chi non usa appunto il fondo usa solamente la gelatina poi dei buoni semi e qui queste sono la chiave di tutto allora prima di iniziare vi spiego la differenza tra i semi che troviamo cinesi su aliexpress per esempio e semi buoni che vengono veramente da allevamenti botanici allora questo è una semina fatta con semi presi da aliexpress quindi cinesi che costano pochi centesimi e con cui l'ha riuscita cioè molti erano marci poche piantine completamente un pratino che non esiste addirittura sono semi video misti di piante diverse lo sostegno non è per nulla questo è un pratino invece fatto con piantine e così metto a fuoco magari con la luce guardate pieno perché come ho detto il segreto di tutto sono dei buoni semi prima di tutto guarda è la cosa più importante non spendete soldi in semi dell'express o cc di cinesi vari perché non mi hanno dato mai la buona riuscita e io vi ho fatto idea differenza io devo prendere questi qua questi qua li prendono da un botanico che li alleva completamente lui dal belgio proprio un botanico che alleva varie piante di selezione quindi sono semi freschi e buoni la differenza si vede ve l'ho fatta vedere io ho provato a prendere quelli dai siti cinesi ecco la riuscita sono specialmente spesso piante miste che non hanno nessuna nessuna valenza quindi saper scegliere comunque sia dei buoni semi dovete avere la fortuna di avere dei buoni semi anche se prendete cinesi ripeto magari su dieci possono capitare che due tre sono partite buone di semi mi sono capitati per essermi buoni però maggior parte li ho sempre buttati perché erano piante miste o comunque sia non germogliano tutti o solamente alcuni o che avevano troppa muffa era un po' un casino quindi preferisco magari non prenderli prenderli più da allevatori europei quindi un acquario mettiamo meno tre centimetri di fondo io in una vaschetta dato che queste qui le levo in vitro per venderle in vitro perché le faccio io metto se no mezzo centimetro di fondo faccio in modo che sul conto coperto giusto una base per fare una base per radificare le piante nulla di più ecco così va bene così va bene quindi abbiamo se no quel mezzo centimetro giusto per far radificare un pochetto le piantine ora l'altra cosa di cui i semi non vanno seminati con acquario pieno di acqua perché altrimenti gallegge non si crea la muffa e non succede un casino non riuscivo a ottenere nulla in pratica quello che va fatto va fatto in acquario è vuoto senza acqua va messo il fondo inumidito c'è di essere bagnato umido ma non con massimo mezzo millimetro di acqua sopra ma ma manco di più io ecco nebulizzo il fondo nebulizzo abbastanza in modo che si bagna per bene poi seconda fase prendo i semi questo che sto facendo lo posso fare in qualsiasi acquario naturalmente l'acquario bisogna mettere più fondo come ho detto minimo 3 cm perché poi se vogliamo più piantare specialmente altre piante mettere i pesci decorazioni è meglio sempre mettere meno 3 cm di fondo ora prendiamo i semi e distribuiamo con una bustina circa si fa un acquario da 30 litri le bustine sono circa vanno da 10 ai 16 grammi non hanno un peso uniforme dal venditore dove le comprate comunque si fa un substrato ora ve lo faccio vedere eccolo qua pieno di semi vedete piena di semi non si mette un altro poggio che che ho visto del zone in cui sono rimaste senza ok a questo punto dobbiamo nebulizzare ma molto dolcemente in modo da non scuotere molti semi giusto per bagnarli perché i semi devono essere bagnati non devono avere l'acqua sopra attenzione cosa succede al contatto con l'acqua i semi scatenano le reazioni chimiche che crea una muffa di protezione più si vede che il semi sta iniziando a fare la sua reazione ora infatti ma come vedremo si è creata una platina bianca diventano appiccicosi semi ve lo faccio vedere vediamo se si vede vedete è diventata la platina bianca quella è la muffetta che si è creata quindi va bene così lasciamo così ora va lasciate così finché non germogliano quanto tempo ci metto per germogliare questo dipende dalla temperatura naturalmente in acqua senza acqua non possiamo accendere l'iscaldatore quindi l'inverno ci possono volere anche due settimane l'estate in due massimo tre giorni già iniziano a germogliare per esempio queste qua quindi iniziano a germogliare in questo caso in cui sto facendo il video è giugno quindi estate e ora ve li faccio vedere come iniziano a germogliare vedete queste qui sono state piantate praticamente quattro giorni fa e già hanno germogliato dopo due giorni stanno man mano tutti i semi uscendo quanto ci mette il seme per diventare praticamente così mi stiate chiedendo o no? allora per diventare così dipende sempre dalla temperatura ci può volere da un mese come anche una settimana dipende dalla temperatura l'estate prima temperatura calda è tutto più veloce una volta fatte una volta che le piante sono appunto germogliate magari man mano aggiungiamo dell'acqua molto lentamente per non scuotere i semi perché ancora non c'è una radici in questo stadio per esempio che sono ancora all'inizio però una volta che le piante ormai sono cresciute tipo così comunque hanno messo ormai le radici vediamo se ve le faccio riesco a farle vedere le vedete le radici? quindi ormai la pianta è radicata possiamo iniziare a mettere dell'acqua sopra quindi man mano metto dell'acqua aumentare giorno dopo giorno fino a rimpiuto l'acquario e con questo penso a tutto vi ho fatto vedere come si seminano il glosso stigma magari qualche altro video vi faccio vedere come si seminano altri tipi di piante che allevo ho imparato vi compro i semi e le piante me le allevo io tutte le piante che vendo me le allevo io vi faccio vedere altri tipi di arbette che faccio in vitro sempre grazie per l'attenzione vi aspetto come sempre sul forum di BetItalia www.betitalia.it c'è il link sul banner perché abbiamo aperto un nuovo forum quindi venite a chiedere tutte le informazioni sul forum o sul gruppo facebook BetItalia grazie spero che questo sito questo video sia utile a qualcuno grazie per l'attenzione alla prossima ciao